Maria Luigi Asburgo Lorena, imperatrice dei francesi e regina di Italia, poi duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla nata nel 1791, figlia primogenita dell'arciduca Francesco, dal 1792 imperatore del Sacro Romano Impero con il nome di Francesco II e dal 1804 imperatore di Austria con il nome di Francesco I e di Maria Teresa di Borbone Napoli. Ricevette la classica educazione riservata alle arciduchesse di Asburgo, viste, nell'ottica di antico regime, come future pedine da giocare nello scacchiere politico europeo a vantaggio del prestigio e della potenza della casa, di Austria. Per prepararla ad assolvere il compito di futura sposa di un sovrano scelto secondo il criterio della funzionalità e i disegni imperiali, le vennero innanzitutto insegnate le lingue, francese, inglese, spagnolo, ma anche italiano, cieco, un po' di ungherese e perfino qualche rudimento di turco, latino e greco, che rientravano nel bagaglio culturale ritenuto idoneo per un'arciduchessa. Bionda, con gli occhi chiari, il labbro inferiore turgido degli Asburgo, sensibile, insicure perennemente alla ricerca di protezione e conferme affettive, La giovane Maria Luigia si affezionò sinceramente alla terza moglie del padre, Maria Ludovica di Austria Este, di soli quattro anni più grande di lei. La profonda avversione della matrigna per Napoleone Bonaparte accentuava orrore provato da Maria Luigia per Colui che fin dall'infanzia le era stato proposto come il male assoluto, L. Anticristo, il nemico della casa di Austria per eccellenza, rappresentante di quella rivoluzione che aveva condotto alla ghigliottina la prozia Maria Antonietta. Per due volte, nel 1805, con la vittoria di Austerlitz, e nel 1809, dopo Wagram, Napoleone aveva umiliato gli Asburgo. Eppure l'imperatore Francesco I, consigliato dal principe di Metternich, non esitò a sacrificare la figlia promettendola in sposa al parvenu corso, in nome della ragion di Stato. Due giorni dopo iniziò il viaggio della sposa diciottenne per Parigi. Appurata è l'impossibilità della prima moglie Giuseppina Beaurnais di procurargli un'erede, Napoleone aveva suo malgrado divorziato e cercato, optando per una principessa di altissimo rango, di rendere accetta la dinastia dei Bonaparte alle antiche monarchie europee. Aveva inoltre pensato, sbagliando, che imparentandosi con un'arciduchessa di Asburgo si sarebbe messo al riparo da eventuali ostilità verso la Francia da parte dell'impero si affrettò a informare il padre della sua felicità e assolse l'unico compito assegnatole, dare un'erede a Napoleone. Il 20 marzo 1811 nacque infatti Napoleone Francesco, cui fu attribuito il titolo di re di Roma. Essere al fianco dell'uomo più potente di Europa può avere lusingato l'amor proprio della giovane Maria, ma la vita nella fastosa corte imperiale francese era ben diversa da quella che aveva condotto a Vienna. Si era sinceramente affezionata a Napoleone, ma il perno del suo mondo affettivo, elle uomo di cui riteneva di condividere i valori, il rifugio, restava il padre. Non era più elle imperatrice dei francesi, ma tornava a essere la figlia di Francesco I di Austria, e come tale andava tutelato il suo diritto alla sovranità del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, ha attribuito le 11 aprile 1814 dal trattato di Fontainebleau, senza tener conto della legittima aspirazione dei Borbone a tornare sul proprio trono. Napoleone, compreso che la moglie non lo avrebbe con ogni probabilità a seguito tentò di suicidarsi. Lasciò che la latente ipocondria di cui soffriva le procurasse una serie di malesseri fisici che ne avrebbero poi, quasi costantemente caratterizzato la vita, come risulta dal suo carteggio. Il distacco dal marito non era ancora del tutto compiuto. Quando insistette con il padre per recarsi ad Aixles Baines, in Savoia, per sottoporsi a cure termali, il timore di metterni c'era che potesse ricongiungersi a Napoleone. Egli decise quindi di trattenere il figlioletto di lei a Vienna e di affiancarle un uomo di sua fiducia, il generale Adam Albert conte di Neyperg con il compito di sorvegliarla e consigliarla. Neyperg, che si era distinto nelle campagne contro Napoleone, era stato impiegato dalla cancelleria di Vienna con successo anche in delicate missioni diplomatiche. Una sciabolata gli aveva provocato la perdita dell'occhio destro, sul quale usava tenere una benda nera. Aveva 39 anni, era un buon conversatore, conosceva diverse lingue, amava la musica e suonava il pianoforte. Maria se ne innamorò profondamente e gli si affidò in piena fiducia anche nella tutela dei suoi interessi di sovrana. E con Neyperg al fianco, in qualità di suo cavalier di onore, il 20 aprile 1816 fece il suo solenne ingresso a Parma, festeggiata dai sudditi tra il canto del Tedom, luminari e delargizioni al popolo. Il primo maggio 1817 diede alla luce Albertina, Maria si rivelò madre affettuosissima, determinata ad assolvere il ruolo di sovrana senza rinunciare alla libera espressione della sua affettività. Alcuni anni dopo non avrebbe esitato ad affermare, amo meglio che il mondo conosca le mie debolezze di donna, anziché un'ingiustizia da regnante. Nell'agosto 1821, morto Napoleone, sposò morganaticamente Neyperg. Lavori pubblici, beneficenza, opere caritative furono gli ambiti di più forte intervento di Maria. Utili a porre le basi per un'immediata popolarità. Si trattò spesso di portare a compimento progetti ideati durante il periodo francese, come il cimitero della villetta, strade, ponti, ospizi. Fu messo a punto un nuovo codice civile considerato piuttosto avanzato che entrò in vigore il 1 luglio 1820. Maria prestò attenzione al decoro architettonico di Parma e il volto neoclassico della città ne fu diretta conseguenza. Impose costantemente una politica di prezzi bassi per le rappresentazioni teatrali, in modo da favorire l'accesso al teatro a chi non apparteneva ai ceti agiati, anche o l'orchestra ducale, la biblioteca, il museo di antichità. L'Accademia di Belle Arti e la Pinacoteca si avvalsero in diverse occasioni del suo interessamento. Si erano formati gabinetti di lettura ed erano nati fogli periodici. Tuttavia la fase più vivace della cultura parmense nell'età della restaurazione stava per concludersi, e il primo significativo momento di questo processo giunse con la morte di Neitberg, avvenuta il 22 febbraio. Maria si distinse ancora una volta per l'amitezza delle pene inflitte ai liberali, ma amitezza, monumenti e beneficenza non bastavano più a riannodare un legame che si era spezzato. In questo clima teso, fu colpita nella sfera privata prima dalla morte prematura del figlio Napoleone Francesco, stroncato dalla tisi a 21 anni nel 1832, poi da quella del padre, nel 1835. Come sempre bisognosa di appoggiarsi a un uomo di fiducia, nella vita affettiva come nell'esercizio della sovranità, trovò nel successivo funzionario inviatole da Metternich nel 1833, il conte Charles René de Bombelles, la persona giusta, tanto da sposarlo morganaticamente il 17 febbraio. Nel risanamento delle finanze ducali, Bombelles non godette però di alcuna simpatia. Considerato reazionario e bigotto, ebbe forse innanzitutto il demerito di rappresentare Austria in una fase in cui si stavano facendo rapidamente, strada il sentimento nazional patriottico e avversione per lo straniero. La morte avvenne qualche settimana prima dello scoppio della rivoluzione del 1848, che elle avrebbe probabilmente travolta. E forse non se ne sarebbe stupita, se è vero che lasciò scritto, alla mia morte non fate molto rumore perché in fondo non sono che una donna che ha vissuto in un'epoca più grande di lei, nel 1848 alla volta di Vienna, dove fu tumulata nella cripta dei Cappuccini.